Buonasera a tutti, eccoci qua, ciao Daniela. Allora, che bello, questa sera abbiamo un ospite nella nostra rubrica Oltre viaggi astrali e sogni lucidi e io ho deciso di invitare un ospite che è Daniela Colavitti. Ciao Daniela, come stai? Ciao Michi, bene, bene, grazie, grazie mille. Visto più volte ai viaggi astrali, ai sogni lucidi, sono comunque dei fenomeni che si sviluppano all'interno dell'ambiente onirico e quindi ho avuto un po' questa idea, questa iniziativa di invitare Daniela, che già la conoscete, ha fatto già alcune dirette. Daniela, quindi parlaci un po' di quello che fai, di che cosa ti occupi, cosa stai facendo anche da tempo. Sì, allora, io vedo i sogni un po' come Raduga, cioè io dal momento dell'addormentamento io dico noi siamo nella fase o nel mondo onirico, possiamo chiamarlo come vogliamo. Quindi in questo mondo onirico noi possiamo fare diverse esperienze. Quello che io cerco di trasmettere alle persone è l'importanza soprattutto di queste esperienze, quindi anche i sogni normali. Perché queste esperienze ci mostrano la nostra intima profondità, ci mostrano chi siamo, ci mostrano, ci danno le risposte alle nostre domande e ci abituano anche, ci insegnano questi sogni. Il mondo onirico è un linguaggio diverso che però parla sempre di noi, quindi è un metodo di autoconsapevolezza. Poi se arriviamo a gestire il sogno lucido e il viaggio astrale, meglio ancora, vuol dire che abbiamo confidenza con questo mondo e sappiamo gestirlo. Secondo me questa è una cosa molto molto importante anche solo pensando agli incontri con i defunti che possiamo fare, alle cose che possiamo dire alle persone che sono lontane, che non sono qui, tutti i contatti che possiamo avere. Oltre che poter viaggiare, visitare, fare dei test come nel viaggio astrale, la verifica che quello che ho visto è reale, quindi vuol dire che io posso muovermi anche senza questo corpo. Questa è una cosa molto importante secondo me che la dice lunga sul nostro corpo al quale noi siamo molto attaccati, mentre invece siamo anche dell'altro, giusto? Allora io appunto per chi non ha seguito insomma anche i precedenti incontri, spieghiamo anche che cos'è, adesso questo spiegherò io in maniera molto molto breve diciamo, cerchiamo di sintetizzare. Vi faccio vedere anche alcuni lucidi che ho preparato per voi alcune slide per spiegare che cos'è effettivamente un sogno lucido, che cosa significa sognare diciamo in maniera lucida. Allora, un sogno lucido è un ambiente, un'esperienza, un'esperienza insolita ed eccitante, in breve si tratta di una condizione onirica in cui siamo coscienti del fatto di trovarci in un sogno. Questa consapevolezza può spaziare dal semplice pensiero, ah ok sto sognando, è un sogno, quindi perché c'è qualcosa di estraneo, di anomalo che mi fa rendere conto che sta sognando, perché come sappiamo nei sogni succedono cose strane rispetto all'ordinarietà, no? E quindi dal fatto di dire perfetto questo qui è un sogno, quindi io mi rendo conto, fino a un'incredibile varietà di possibilità, di sensazioni e di un'incredibile libertà da ogni limitazione di corpo, tempo e spazio, perché possiamo praticamente fare qualsiasi cosa. Sperimentiamo una grande, quando siamo lucidi all'interno di un sogno sperimentiamo una grandissima libertà, l'assenza di vincoli, il fatto di spostarci dove vogliamo, apriamo una porta, apriamo una finestra e siamo in un altro pianeta o siamo all'altra parte dell'universo, o semplicemente andiamo a trovare un nostro amico che si trova dall'altra parte della città, perché all'interno del sogno, come voi, come molti voi avranno potuto constatare, dentro il sogno non esiste né il tempo e né lo spazio. Il fatto di dire che non esiste può essere sbagliato per un certo punto di vista, perché non è che non esiste, è che praticamente il tempo e lo spazio sono tra di loro mischiati, cioè non c'è il presente, il futuro o il passato, è tutto quanto in un unico ambiente. Allo stesso modo anche lo spazio è qualcosa di mischiato, perché io posso andare dall'altra parte dell'universo in un decimo di secondo, ok? Le percezioni sono vivide, sono realistiche, quindi si ha questa esperienza meravigliosa in cui, ma non solo anche le percezioni visive, ma anche i rumori, gli odori, la consistenza degli oggetti, la temperatura, e tutto appare estremamente realistico, ma addirittura più reale della realtà, e si parla proprio di iperrealismo. E siamo praticamente capaci di compiere delle azioni all'interno del sogno lucido che vengono definite come dei veri e propri miracoli, come ad esempio volare, e riuscire anche a modificare l'ambiente in maniera istantanea come noi vogliamo, noi possiamo trasformare il sogno a seconda, chiaramente, della nostra capacità di manipolare i sogni, perché non è poi così facile, ma ci vogliono alcune tecniche, alcune capacità, ma possiamo praticamente modificarlo come noi vogliamo. Possiamo andare a trovare la nostra attrice preferita, quindi anche per scopi ludici, possiamo andare e viaggiare dovunque, vedere qualsiasi punto dell'universo, vedere com'è fatta la Torre Eiffel, chi non è mai stato al Grand Canyon può andare di fronte al Grand Canyon e vedere questa immensità di questo paesaggio straordinario. Quindi si fanno dei veri e propri viaggi a costo zero, non c'è bisogno di pagare o di andare in un'agenzia viaggio, di prendere un aereo. Quindi è un'esperienza normalmente straordinaria, qualcosa di meravigliosa. E questo spesso viene anche accompagnato, il sogno lucido, non so chi di voi lo ha avuto, molte persone sicuramente hanno provato questa esperienza, come il sognare di volare. Quanti di voi hanno sognato di volare? Tantissimi, chi non l'ha mai fatto? Normalmente il sognare di volare è quasi se fosse un anticipo di un sogno lucido, perché quando voli ti rendi conto che sta cambiando qualche cosa, dici questo non è un sogno normale, non è un sogno ordinario, perché io sto volando. Normalmente questo anticipa il cosiddetto sogno lucido. Ecco, questo un po' era un po' per anticipare cosa sono i sogni lucidi rispetto ai sogni ordinari. Normalmente i sogni lucidi sono qualcosa di veramente straordinario, perché noi ci ricordiamo nei minimi dettagli tutto quello che abbiamo fatto, non è come nel sogno ordinario in cui a volte è anche difficile ricordare, perché ti svegli, c'è cosa ho sognato, non mi ricordo quasi nulla, mi ricordo due, tre cose, quindi magari mi devo mettere a scrivere, devo usare delle tecniche di memoria specifiche per ricordare i sogni ordinari. I sogni lucidi normalmente è impossibile non ricordarli, perché il ricordo è talmente intenso rispetto al sogno ordinario, che hai fatto delle cose talmente stravaganti, talmente incredibili. Voi pensate che la nostra memoria, tanto più si basa sulle emozioni, e tanto più è intensa. Lo sapevano anche gli stessi Pico della Mirandola, per esempio, e anche esistono delle tecniche che esistono da tantissimo tempo, mi vengono in mente proprio le tecniche per ricordare, anche per ricordare gli studenti universitari, quando per esempio studiano, no? A volte hanno delle difficoltà. E al giorno d'oggi ci sono proprio delle tecniche, come per esempio il palazzo della memoria, no? Che ti aiutano proprio ad associare questi ricordi, quindi anche ricordi banali, ricordi noiosi, come può essere lo studio di un libro, per esempio un libro di diritto che ha 700.000 leggi, tu associ praticamente tutte queste cose all'emotività, al... La nostra memoria funziona in questo modo, perché più associ l'emozione della memoria ad un ricordo, più è facile per te poi andare a rimuginare quel ricordo. Ci sono delle tecniche vere e proprie che utilizzano le emozioni. Nei sogni lucidi le emozioni sono molto forti, per questo è molto molto facile ricordarli, i sogni lucidi. Ok? E quindi quali sono tutte le possibilità del sogno lucido? Sono praticamente infinite, perché possiamo volare in qualsiasi posto dell'universo, possiamo addirittura incontrare i nostri defunti, i nostri cari defunti, perché in realtà loro il mezzo che hanno per potersi esprimere, il ponte di collegamento che c'è tra noi e loro, il mezzo più semplice è proprio quello dei sogni, no? Quindi è un ponte come se fosse tra la realtà ordinaria e la realtà spirituale, il ponte che è il sogno. Quindi il modo più facile che hanno per comunicare con loro è proprio tramite il sogno. Quante volte capita di persone che sognano a noi i propri defunti? Chi a volte riceve i numeri dell'otto e ci azzecca pure? Quante volte può capitare? Ecco, nel sogno lucido noi abbiamo la possibilità, siccome abbiamo una capacità di azione volontaria, di compiere delle azioni volontariamente, abbiamo anche la capacità di contattare i nostri cari, i nostri defunti. Viaggi nel tempo, conoscere chi eravamo, e anche in funzione delle nostre vite precedenti, quindi fare un po' un riepilogo di tutto, come se facessimo una sorta di regressione all'interno del sogno, quindi possiamo un po' riepilogare momenti passati nella nostra vita, ma anche, perché no, di vite precedenti, ma anche ottenere tantissime informazioni che si possono ottenere dal sogno lucido. possiamo trasformarci in qualunque cosa, abbiamo una capacità di manipolare i sogni, e se noi siamo in grado di farlo, trasformarci in un animale, in un pesce, in un'aquila che vola, perché pensate che tutte queste capacità che stanno dentro di noi, come le esprimiamo noi? Le esprimiamo proprio all'interno di questa dimensione, di questa nuova dimensione in cui non ci sono vincoli, ma si può andare anche a incontrare quelle che sono le nostre guide, i nostri maestri. Allora, possiamo anche un po' distinguere qualche cosa di diverso da quello che è il sogno ordinario o anche il sogno lucido, che è proprio il vero e proprio viaggio astrale. Allora, in quel senso, noi parliamo di una realtà che è molto vicina alla realtà del sogno, ma è qualcosa di profondamente diverso. Vicino, ma allo stesso tempo molto molto lontano e molto diverso, perché possiamo aprire delle finestre all'interno del sogno e trasportarci in veri e propri viaggi dimensionali, in quelle che sono le dimensioni superiori, quindi quello di cui io sto parlando e la rivista, la nostra rivista, è proprio dedicata ai viaggi astrali, alle OBE, quindi all'Out of the Body Experience, in cui in un certo senso di vista ci sentiamo come proiettati fuori dal corpo fisico e sia, può essere sia una proiezione diretta, cioè un espandere la nostra consapevolezza, la nostra coscienza al di là della materia, al di là del corpo fisico, lo possiamo fare con dei metodi più diretti, ma lo possiamo fare anche all'interno del sogno, perché all'interno del sogno c'è la possibilità di fare dei veri e propri viaggi astrali. Allora, io a questo punto, no, io volevo un po' raccontare, quindi per questo ho invitato anche Daniela, perché io volevo innanzitutto spiegare qual è l'importanza del sogno, perché noi dobbiamo rapportarci con i nostri sogni, ricordare i sogni, capire che cosa ci vogliono dire, perché abbiamo la necessità impellente, se vogliamo veramente avere un'evoluzione interna, un'evoluzione spirituale, quindi conoscere noi stessi, ci deve essere dapprima il contatto con questa importantissima dimensione che vive dentro di noi. Quindi volevo un attimo sentire Daniela proprio sul sogno, qualche cosa sul sogno, cos'è che significa interpretare, analizzare? Sì, io volevo collegarmi anche a qualcosa che hai detto prima riguardo all'emozione, che è la cosa che ci rimane più impressa, quindi un sogno emozionante, un sogno lucido, come dici, non si può dimenticare. Allo stesso modo ci sono dei sogni che le persone ricordano anche dopo 30 anni, perché l'impatto emotivo è stato molto forte. In questo senso volevo precisare che fra tutti i corpi che noi abbiamo, compreso il corpo astrale, noi abbiamo un corpo fisico e il corpo fisico sente le emozioni a livello fisico, quindi mi batte il cuore, inizio a sudare, piango perché ho paura, eccetera. In questo senso il corpo porta la memoria delle nostre esperienze e quindi le ricorda, le dobbiamo solo ritrovare, quindi anche per ricordare i sogni o delle volte per rientrare in un sogno, noi sfruttiamo le emozioni del corpo. Quando si dice, pensa a una cosa, focalizzati sul cuore, eccetera, eccetera, non facciamo altro che sfruttare giustamente questo corpo che noi trattiamo spesso, lo riteniamo secondario. In questo senso mettendo insieme, perché parlo del corpo? Mettendo insieme il corpo e l'anima, il viaggio astrale, il sogno lucido, noi abbiamo un equilibrio, quindi noi ascoltiamo le emozioni attraverso il corpo e la memoria ricorda il sogno. Ecco perché, per esempio, per ricordare i sogni, è utile, ad occhi chiusi, al risveglio, mettersi nelle posizioni in cui si è soliti dormire. Perché il sogno, lo ricordiamo, nella posizione in cui il corpo l'ha sperimentato. Sembra assurdo, ma chiunque l'ha provato sa che è vero, come sa che cambiando stanza o cambiando o dormendo in un albergo i sogni sono diversi. In questo senso, conoscere il nostro mondo onirico, come dicevi tu, Michi, è un po' scandagliare il profondo di noi stessi, vedere che cosa c'è. Per esempio, in un sogno lucido, come dicevi tu, noi possiamo anche fare delle domande, vedere una scena, scegliere magari di non cambiarla e di chiedere se c'è qualche informazione per me che devo sapere. Allora magari la scena cambia, cerchiamo di interpretarla, ascoltiamo le emozioni e possiamo capire qualcosa di più di noi. Nei sogni ordinari, nei sogni che noi facciamo tutti i giorni, scrivendoli, il cervello li rilegge e quindi dice ops, è stato notato qualcosa dentro questo essere umano, forse vuole sapere di più. Siccome i sogni li facciamo noi, sono un prodotto della nostra coscienza, la coscienza stessa dice cavolo, sono interessato a questa cosa, vediamo, vediamo di svilupparla, di portarla avanti e quindi permettere a questo individuo di conoscersi un po' meglio attraverso una parte diversa dalla realtà, quindi attraverso un sogno che per come è strutturato, il sogno non conosce la negazione, non dà giudizi e non dice devi fare questo o devi fare quello, ci mostra semplicemente come siamo fatti noi, come rispondiamo a diverse emozioni e come ci comportiamo con il mondo esterno. Quindi in questo senso il linguaggio del sogno quando è compreso ci dà intanto la possibilità di poterlo manipolare, cioè di poter cambiare quello che vediamo, ci dà anche la possibilità di programmare un sogno o un sogno lucido per avere delle risposte e ci dà la possibilità di viaggiare in altre dimensioni per avere risposte anche dalle altre dimensioni, trovare delle guide o altre cose. Quindi se noi partiamo nella considerazione del sogno come un metodo, come uno strumento di aiuto per noi, allora la strada diventa sempre in salita. Noi cominciamo a scrivere i sogni, non sappiamo cosa significano, poi andiamo ad analizzare i vari simboli, ci accorgiamo che le persone nel sogno sono sempre uno specchio di noi stessi, quindi non lo vediamo come la sorella, l'amico, la maestra, eccetera. Vediamo per esempio un insegnante, di solito, è un nostro sé superiore più saggio l'autorità che ci dice qualcosa, quindi la vediamo da un altro punto di vista. Ed è anche un allenamento per vedere le cose allo stesso modo nella vita di veglia, perché anche le cose che ci accadono durante la vita di veglia assomigliano un po' ai sogni. Nei sogni, quando facciamo un incidente, solitamente, il sogno ci vuole dire guarda che devi fermarti un attimo, sei andata a sbattere, quindi evidentemente qualcosa hai sbagliato, la stessa cosa succede nella realtà, quindi c'è un equilibrio maggiore quando abbiamo la conoscenza del nostro mondo onirico e in più ci sono tutti i vantaggi che Miki tu hai elencato prima, quindi una libertà, anche specialmente nel sogno lucido e nel viaggio astrale, c'è un importante inalzamento dell'autostima perché io dico cavolo, posso gestire me stesso, cioè non è mica poco, è una cosa grandiosa, quindi imparo a gestire me stesso e anche se magari mi succede qualcosa che non mi piace nella mia vita, io so che posso crearmi un sogno in cui capire come fare meglio, posso entrare in un sogno lucido e fare quello che non sono riuscito a fare nella realtà, anche questo ci dà autostima, lo sciamanesimo direbbe potere e quindi sappiamo di avere questo potere e ovviamente la vita cambia, cambia meglio perché abbiamo stima di noi stessi, siamo capaci. Ecco, questo è secondo me il motivo per cui imparare a ricordare i sogni e a scriverli e come dice un grande sognatore attivo ancora a 80 anni Robert Moss il diario onirico è il libro più importante della nostra vita dove possiamo andare indietro e vedere tutte le vicende che abbiamo passato e rileggerle attraverso i sogni. Molti, giustamente, la cosa che molti mi chiedono, dice sì, vabbè, tu parli di viaggi astrali, parli di sogni lucidi, ti dice ma io non riesco neanche a ricordarmi i sogni, quindi tu perché mi stai parlando di queste cose? Quindi un suggerimento che tu daresti appunto per spiegare meglio che cos'è questo diario onirico. Io per te ho anche qui delle slide anche per aiutarti se vuoi che mi avevi dato. Sì, ecco, questa è una liquida. Così facciamo anche vedere qua visivamente come funziona in pratica il ricordo dei sogni, come lo... In realtà è la cosa più semplice di un percorso con i sogni. Ricordare i sogni è, posso proprio dire, una cavolata perché l'importante è focalizzarsi su questo desiderio. Quindi se io inizio a leggere un qualsiasi libro sui sogni che sia anche di sogni altrui oppure che sia di esperienze dei sogni della Bibbia o non lo so, per esempio c'è un ottimo libro La storia segreta dei sogni di Robert Moss dove racconta tutti i sogni del mito racconta i sogni degli indiani d'America degli aborigeni australiani quindi leggendo di sogni il cervello capisce che noi ci teniamo e quindi ce li fa ricordare. Diciamo che occupandosi di sogni leggendo qualcosa sui sogni prendendo un quaderno qualsiasi e ci scriviamo sopra libro dei sogni oppure diario onirico diario dei sogni mettendo tutti i giorni una data e scrivendo qualsiasi cosa anche se non ricordiamo un sogno possiamo scrivere non ricordo sogni ma mi sembra di avere sognato scriviamo così quindi si mantiene vivo l'interesse non è che io smetto di scrivere perché non ricordo i sogni scrivo lo stesso massimo nel tempo di tre giorni se non due i sogni iniziamo a ricordarli è importante quando ricordiamo un sogno non saltare giù dal letto subito al mattino e quindi intanto siamo contenti eccitati mi ricordo un sogno mi ricordo un sogno quindi con gli occhi chiusi ancora chiusi prendere un registratore vocale oppure un block notice con una penna e buttare giù una bozza perché tanto rileggendolo ci viene di nuovo in mente se però non scriviamo niente è sufficiente molto spesso arrivare al bagno e aver già dimenticato tutto quindi sì come scrivo qua credere nell'inconscio credere nei messaggi del sogno credere nelle manifestazioni dei sogni soltanto dando attenzione a questi sogni noi li ricordiamo poi nel nostro quaderno per essere veramente il libro più importante della nostra vita scriviamo sempre qualcosa alla sera prima di andare a dormire per esempio oggi è il insomma la data scriviamo la data di oggi e scriviamo che cosa abbiamo fatto oggi molto brevemente della serie mi ha telefonato la mia amica con la quale avevo litigato non sono riuscita a fare il pasticcio al lavoro è andato tutto bene quindi scrivo queste tre cose più importanti che ho fatto tre, quattro, cinque che siano un viaggio o qualcosa un nuovo lavoro e poi al mattino scriviamo il sogno nel sogno ovviamente cosa c'è? c'è quello che abbiamo fatto o su cui siamo impegnati in questo periodo della nostra vita quindi il sogno parlerà di quello che stiamo facendo ecco che noi allora vediamo il collegamento con la realtà perché nel sogno effettivamente si parla di una lite si parla di qualcosa che io non riesco a fare ecco il pasticcio che non mi è venuto bene eccetera eccetera si apre un mondo ecco quindi ecco ricordare i sogni non è assolutamente difficile però ci vuole la costanza di scriverli sempre perché il sogno come dico io va corteggiato e come una donna se non la corteggi più non la vedi più non la vedi più sì quindi ecco focalizzandosi su questo desiderio noi possiamo non solo ricordare i sogni ma possiamo inaspettatamente e involontariamente avere anche delle esperienze più importanti sì certo certo e da qui diciamo si richiama il discorso di queste esperienze più importanti che sono quelle che realmente ci interessano che sono proprio i viaggi astrali allora io il collegamento che viene che viene fatto tra il sogno e il viaggio astrale a volte sembra che non ci sia un collegamento sembra qualcosa di completamente diversa però io come ho detto più volte molte persone hanno questa difficoltà quando viene spiegata loro una tecnica per avere le obbe per avere i viaggi astrali dicono ma io non ci riesco non riesco a separarmi dal corpo e perché perché magari ti devi trovare in uno stato di dormireglia devi rilassare completamente il corpo fisico e devi sentire la famosa vibrazione o quel cambio di ambiente che ti permette poi di fare degli accorgimenti delle mosse delle alcune tecniche che vengono spiegate comunque nel libro The Face di Michael Raduga e spesso e volentieri non è facilissimo fare queste tecniche un po' perché c'è anche l'indolenza c'è un po' la pigrizia e quindi non riesci a muoverti non riesci a destreggiarti ma preferisci magari dormire e quindi addormentarti e quindi non riesci diciamo a fare questa questa separazione e è un po' perché non c'è quella volontà predeterminata quell'intento forte diciamo di volontà quella volontà che ti fa alzare e separarti dal corpo e allora esistono proprio altri metodi molto molto interessanti che sono i metodi per ottenere i sogni lucidi innanzitutto e poi per passare dal sogno lucido ai viaggi astrali allora io non non mi dilungherò su questi su questi metodi ma più o meno bisogna capire innanzitutto una cosa una cosa molto molto importante che è quello il che è l'importanza di fare di avvicinarci diciamo a una fase che si chiama la fase rem un attimo c'è anche il discorso che tornano fuori i sogni ci sono dei simboli ricorrenti nei sogni non ci possiamo agganciare a quelli quindi se noi abbiamo il nostro diario possiamo dire cavolo sogno spesso un pesce sogno spesso quella bambola lei la trovo dappertutto come mai bene la utilizziamo per dire ecco ho riconosciuto la bambola allora sto sognando e faccio un test di realtà certo esattamente infatti ci sono delle delle tecniche diverse diciamo delle tecniche innanzitutto si parte da un discorso di qual è il momento migliore per fare i sogni lucidi il momento migliore per fare i sogni lucidi normalmente è quando si entra in fase rem cioè quando è che noi entriamo in fase rem normalmente la mattina presto questo ce lo spiega appunto Michael Raduga e con i cicli di sonno e praticamente per poter avere una hobby un sogno lucido è importante cominciare a conoscere anche questi cicli di sonno cominciare anche a regolarizzare il nostro il nostro sogno il nostro sonno perché se noi andiamo a letta alle 4 del mattino o alle 5 o se magari non riusciamo a dormire siamo completamente insonni sarà anche molto molto difficile riuscire ad avere questo tipo di esperienze perché perché il nostro corpo ha bisogno durante i primi cicli di rilassarsi e normalmente sogna poco si sogna molto molto poco nei primi durante i primi cicli o comunque è difficile ricordarci questi sogni perché sono sogni più caotici più meno ordinari e questo avviene normalmente durante le prime fasi del sonno verso le 4 e mezza quando noi siamo al terzo ciclo di sonno dal terzo ciclo di sonno in poi se noi individuiamo questi cicli più o meno di un'ora e mezza ciascuno quindi ci troviamo presupponendo il fatto che siamo andati a letto a mezzanotte verso le 4 e mezza entriamo il nostro sonno entra in una fase che è la cosiddetta fase REM fase REM come perché? perché sogniamo cominciamo a sognare i sogni diventano praticamente una vera e propria realtà in cui noi stiamo vivendo con la nostra mente all'interno di questa nuova dimensione di questa dimensione onirica tanto più che noi è come se interagissimo con qualche altra cosa che sta avvenendo all'esterno di noi no? nella fase REM gli occhi si muovono c'è il corrispettivo fisico del corpo fisico che è il movimento degli occhi ed è come se noi comunicassimo e muovessimo gli occhi in corrispondenza della comunicazione che abbiamo all'interno di questo sogno quindi stiamo vedendo una persona nel sogno automaticamente si girano i nostri occhi fisicamente quindi come se ci fosse proprio una corrispondenza un corrispettivo di quello che facciamo lì e lo vediamo poi qua fisicamente e per questo si chiama fase REM la cosa importante è che il momento opportuno è questo quindi cominciare a fare tutte le tecniche se noi vogliamo avere i sogni lucidi verso le 4 e mezza alle 5 del mattino le tecniche sono tante le tecniche come vi stavo appunto menzionando per esempio Daniela c'è anche la tecnica del di individuare quelli che sogno i sogni ricorrenti per esempio se io mi sogno sempre un elefante rosa che sta sopra la nuvola tutte le sere mi sogno questo elefante dico attenzione questo è un sogno ricorrente se mi sogno di andare a cena con la cantante con Lady Gaga tutte le sere sto a cena con Lady Gaga perché capita due tre volte va bene ma se capita poi una volta al mese che vado a cena con Lady Gaga o con zucchero o con qualsiasi cantante adesso mi sono venuto in mente questi due cantanti questa è una ricorrenza perché che cosa significa zucchero vado a capire ad analizzare zucchero adesso per fare un esempio un po' stupido cos'è nella mia vita può significare qualcosa di importante magari che ci devo mettere un po' di zucchero magari perché sto vivendo una situazione sdolcinata o romantica l'interpretazione è sempre qualcosa di molto molto soggettivo ma la cosa che ci interessa è individuare poi la ricorrenza poi per capire che quello è un sogno più ricorrenze io vado a individuare più io capisco che sto sognando e da lì l'arte di riconoscere i sogni e di diventare lucidi attraverso i sogni ok questa è una delle belle tecniche ma fondamentalmente la cosa più importante è lo stato di presenza io credo che le tecniche sono tantissime quelle che vengono spiegate ma tra le tecniche principali che realmente ci servono per avere i sogni lucidi c'è un non possiamo dire proprio una vera e propria tecnica ma è un modo di vivere presenti in quello che noi stiamo facendo questo quando durante la giornata ricordarsi più volte chi sono no? avete notato che spesso e volentieri noi ci troviamo in un continuo rimuginamento di pensieri di ricordi del passato o di proiezioni future di preoccupazioni di quello che dobbiamo di quello che dobbiamo fare e questo non va bene perché questo ci pone in uno stato di non attenzione in quello che stiamo facendo e quindi non sappiamo praticamente non riusciamo a comprendere il nostro senso di appartenenza ad una realtà come noi non siamo non siamo svegli non siamo consapevoli se vogliamo realmente renderci uno stato di consapevolezza dobbiamo fare questo esercizio durante la giornata l'autoricordo chi sono che cosa sto facendo mettere l'attenzione su quello che noi stiamo facendo durante la giornata ma non solo questo anche dove siamo durante la giornata un esempio quando io vivo con attenzione mi gusto anche le cose le sto vivendo le sto godo diciamo della vita mi viene in mente per esempio io spesso faccio questo esercizio dell'autoricordo dell'auto attenzione la mattina presto quando faccio colazione mi gusto proprio il cappuccino il sapore del caffè lo zucchero il biscotto e proprio sento proprio i sapori ed è qualcosa di straordinario quando fate questo esercizio vi state facendo una passeggiata per il parco sentite proprio le foglie che è come se vi comunicassero gli alberi sentite questa energia che vi viene addosso e vi sentite presenti in qualsiasi momento della vostra giornata questo serve ad individuare le anomalie semplicemente le anomalie quello che sta accadendo intorno a voi sono in un luogo che corrisponde alla mia realtà o mi trovo in un luogo estraneo improvvisamente durante la giornata io mi trovo in un posto che insolito allora in quel momento io devo ricordarmi se ci sono delle anomalie e farmi la domanda sto sognando oppure sono nella realtà fisica questo vi permette di capire se state sognando e come voi lo fate qua fisicamente più volte e ci sono anche i test di realtà per poter fare tutto questo perché potete per esempio provare ad allungare un dito potete provare a saltare a vedere se siete se ricadete per terra o se state volando ad attraversare per esempio il palmo delle mani con un dito ci sono tanti tanti test che si possono fare perché? perché nei sogni le leggi non sono quelle fisiche ordinarie non c'è la forza di gravità la forza di gravità funziona in maniera diversa si può attraversare la materia quindi questo percorso di autoricordo autoconsapevolezza che si fa durante la giornata quotidianamente possibilmente più volte al giorno quelli che vengono chiamati da Stephen Allabberge ma anche da tantissimi altri studiosi dei sogni lucidi come reality test servono proprio a fare questo a fare proprio questo a renderci consapevoli e quindi renderci conto se stiamo sognando e se noi lo facciamo qui lo faremo anche nei sogni quindi nei sogni noi andremo a individuare delle anomalie e capiremo quando queste vengono che sono dei sogni quindi per questo noi saremmo lucidi dentro il sogno ma ci sono tantissimi tantissimi test mi fai venire in mente una cosa che al giorno d'oggi è molto semplice è molto più facile chiedersi ma questo è un sogno quindi osservare la realtà che insomma diciamo in questi ultimi due anni ci riserva parecchie sorprese e quindi io molto spesso mi chiedo ma sto sognando è un sogno e quindi poi ovviamente è un'abitudine che si ripete anche mentre stiamo sognando sì ultimamente mi piace chiedermi davanti a certe scene o certe cose se 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 questo è un sogno quindi è una domanda secondo me che possiamo farci sempre possiamo analizzare e dire ma ecco mi sembra assurda questa cosa qua è come un sogno e quindi sì diventa poi un modo di analizzare che portiamo anche nella realtà e dalla realtà che portiamo nel sogno e spesso anche diciamo anche l'analisi di quello che accade nei sogni è importante io so che tu ti occupi proprio di analisi di analisi dei sogni interpretazione dei sogni dici proprio due parole su questo in maniera chiaramente sintetica perché se ne potrebbe parlare per secoli diciamo di questo argomento sì posso elencare alcune cose che sono abbastanza elementari per un sognatore però chi non lo sa si potrebbe meravigliare è come quando per esempio noi facciamo un sogno e ci troviamo in una casa non è casa mia però ci sono tante stanze anche carina eccetera ci sono delle persone succede questo e quell'altro ecco la casa quando noi sogniamo la casa noi sogniamo il nostro io interiore cioè le stanze sono i nostri talenti gli armadi con i vestiti sono gli armadi dove noi conserviamo le nostre maschere cioè la maschera della madre la maschera del lavoratore la maschera della figlia quindi tutti gli atteggiamenti che noi abbiamo in queste determinate circostanze e tutte le persone rispecchiano qualcosa di noi tutte le persone che vediamo questo è quello che le persone fanno più fatica a credere perché mi dicono ma no no è stata lei che ha fatto quella cosa lì allora bisogna spiegare far capire bene che lei ha fatto quella cosa lì perché bisogna vedere insomma nel tuo passato nel tuo presente come reagisci nelle determinate situazioni poi c'è per esempio l'automobile l'automobile rappresenta come ci sentiamo noi com'è il nostro io allora se io guido una ferrari rossa bella vuol dire che sto a mille e che ho un potere enorme tanto quanto la cilindrata della macchina e mi sto divertendo mentre se guido una panda sgangherata allora magari mi sento povero di spirito mi sento inadatto mi sento emarginato eccetera eccetera sono tutti tutte simbologie che vanno identificate per esempio c'è un sogno di Jung molto famoso sulla casa dove lui si trova in questa casa sconosciuta bellissima dove a un certo punto vede che ci sono delle scale che scendono giù allora lui scende in questa specie di scantinato e le scale non finiscono mai comincia a essere buio comincia ad avere paura e giù vede come delle grotte dove ci sono degli degli antenati sepolti ci sono delle osse eccetera eccetera quindi c'è tutta una visione fra luce che sta più in alto ombra che sta più in basso esattamente come quando sogniamo di salire le scale facciamo un percorso in salita e quando scendiamo le scale facciamo un percorso di introspezione quindi ci sono degli elementi diciamo principali come questi che se tenuti in considerazione ci stimolano anche ad andare avanti nell'analisi e escono fuori di quelle cose di quelle dinamiche familiari che sono molto simili a una costellazione quindi noi vediamo il rapporto che abbiamo con la mamma vediamo che abbiamo una dipendenza nei confronti non so di quello che dice il padre il sogno ci fa semplicemente vedere queste cose ma come dicevo prima ce le fa vedere attraverso simboli e senza nessun giudizio cosa che noi mettiamo durante la vita di Vedia e quindi il sogno ci fa semplicemente vedere cosa facciamo non ci dice guarda che sei brutta e cattiva oppure sei bella e brava ci fa semplicemente vedere lo spaccato della realtà perché il sogno ci mostra qual è la nostra verità perché un mio comportamento può essere perfetto per me e per la mia dinamica di vita ma non può andare bene per qualcun altro perché siamo tutti unici ecco perché nel sogno e nell'interpretazione del sogno e dei suoi simboli noi riusciamo a scoprire noi stessi e come dicevi prima tu chi sono cosa sto facendo dove sono e quindi c'è presenza perché il sogno viaggia con noi anche durante la veglia e quindi anche questo guardarsi in giro chiedersi se è un sogno analizzare è passata una macchina rossa possiamo fare esercizio anche durante la realtà andiamo al supermercato e diciamo questa signora mi aggredisce mi dice no alla cassa c'ero prima io allora io siccome analizzo come il sogno io non me la prendo con la signora la vedo come uno specchio e dico perché la signora è arrabbiata e mi chiedo ma io come sto e lì delle volte cadono le braccia e ci arrendiamo all'evidenza sì anche delle sincronicità che ci sono fra i sogni perché a volte non è detto che il subconscio ci dia dei messaggi tramite i sogni soltanto ma a volte ci li dà proprio nella realtà quindi quello che un po' dobbiamo imparare a conoscere diciamo a comprendere il fatto che avere un cambio di paradigma cioè vedere la realtà in maniera differente perché il sogno è come se si mischiasse a questa realtà fisica no? del resto anche Michael Raduga dice tutto quanto è la fase lui non fa una grandissima distinzione fra la realtà fisica e la fase solo che questa è una fase più condensata è una dimensione comunque più solida che appare diciamo così ai nostri sensi in maniera più solida più condensata no? ma in realtà è sempre la stessa cosa diciamo la realtà mentale la realtà energetica come quella fisica fanno parte alla fine di un'unica realtà quindi questo subconscio si manifesta non solo nei sogni ma anche qua se noi siamo attenti a individuare gli elementi della diciamo della vita le cose che ci circondano le persone che ci circondano i messaggi che ci vengono dati aprendo proprio le orecchie riusciamo a cogliere questa realtà che è proprio la sincronicità no? questa parola magica la sincronicità cioè i messaggi che arrivano per noi quindi sincronicamente proprio per la nostra evoluzione per il nostro sviluppo interno no? questo è bellissimo questa cosa che hai detto bellissimo si può anche coltivare nel senso io la coltivo nel senso per esempio stamattina io dico sempre che salvo dei fiori ogni tanto i fiori recisi io al mercato compro questo mazzo di fiori belli li metto in acqua finché durano e poi quando vedo che stanno passendo nonostante cambi l'acqua tagli un po' il gambo eccetera stanno per morire io li prendo li metto in una borsina di stoffa e li porto in mezzo al bosco io per fortuna ce l'ho vicino o nel fiume che ho qui vicino di acqua termale quindi dico muoiono al caldo e lì stamattina ho fatto la stessa cosa ho preso questi fiori sono salita in macchina sono andata in questo boschetto dove c'è anche una fonte d'acqua e li ho lasciati lì li ho proprio buttati nella natura e poi siccome c'era anche mio figlio sappiamo gli adolescenti che idee hanno e gli ho detto lo sai che probabilmente questi fiori non hanno mai visto un bosco e sono nati in serra almeno muoiono vedendo il bosco io entro in contatto con questa cosa cioè mi piace farlo ma mi piace anche pensare che poi c'è un ritorno c'è un ritorno nei sogni oppure nella realtà e quindi è un modo di agevolare anche il sogno perché questo è un po' come sognare di giorno queste sono cose che faccio io perché io credo in queste cose quindi se io credo in queste cose poi io mi ritrovo a fare dei sogni dove magari i fiori mi ringraziano o dove magari c'è una manifestazione della natura che mi fa capire che ho fatto qualcosa di bello eccetera eccetera quindi sì tutto tutto segue entrambi gli stati di coscienza sia la fase che la vita di veglia effettivamente come dicevi tu noi pensiamo che qui sia tutto più reale ma chi ha provato un sogno iper lucido o un viaggio astrale sa che c'è di più c'è qualcosa di più reale e quindi lì non ci sono poi più domande ovviamente sì ok perfetto Daniela allora Daniela guarda io so volevo anche dire diciamo al nostro pubblico che noi abbiamo fatto degli audio abbiamo registrato degli audio molto molto belli per ottenere l'esperienza extracorporea quindi sono degli audio particolari che abbiamo registrato con una musica di sottofondo anche di All Jordan che è un autore giovane molto bravo e questi audio servono proprio per indurre uno stato diciamo di sonno lucido e io direi se vogliamo concludere questa serata qui se vogliamo trasmettere uno di questi di questi audio lo trasmettiamo proprio come conclusione della della serata e non vi diciamo nulla voi rimanete in attesa in ascolto di questo di questo audio Daniela io ti ringrazio per tutto quanto veramente un bellissimo incontro e ci vediamo speriamo presto insomma magari in una prossima intervista eh sì grazie di tutto grazie arrivederci a tutti ciao vado con l'audio ascoltate l'audio grazie grazie a tutti grazie a tutti immaginate di camminare lungo un sentiero fiancheggiato da alberi è una bella giornata soleggiata e l'aria è fresca e profumata mano a mano che inalate una boccata d'aria fresca dopo l'altra vi avvicinate sempre di più alla fine del sentiero e potete notare in fondo al viale un pergolato coperto di rampicanti fioriti l'ingresso l'ingresso è invitante oltre il varco la luce sembra più intensa e vi giunge il canto degli uccelli ma prima di raggiungere la pergola fermatevi un momento e prendete atto che quegli ultimi passi vi condurranno nella dimensione dello spirito continuate a camminare e sentite sul viso il calore di un sole così limpido e luminoso da far luccicare il prato davanti a voi gli alberi sono così frondosi e alti che quasi non riuscite a vederne la cima uccelli di ogni specie volano alti e si lanciano richiami tra loro volgete lentamente lo sguardo in quel vostro giardino e prendete e prendete coscienza di ogni cosa i rilievi ondulati del prato digradano nell'orizzonte e animali di ogni specie giocano all'ombra degli alberi. Al vostro arrivo sono sbocciati fiori di tutti i colori e le farfalle volano in basso per poi librarsi nel cielo. Guardatevi attorno e fate vostro lo scenario e nel frattempo lasciate espandere la vostra coscienza il più possibile. Ogni cosa che vedete è perfetta, ogni cosa che percepite è in pace. Un ruscello che luccica al sole cattura la vostra attenzione. L'acqua fluisce dolcemente giù da una cascata di cui avvertite il richiamo. L'acqua è calda e mentre siete sotto lo scroscio, nella bruma davanti a voi compare un arcobaleno. Siete sotto l'acqua adesso, che sembra cambiare in base a ogni colore dell'arcobaleno e sentite l'energia del mondo umano scorrervi addosso. rimanete sotto l'acqua finché non vi sentirete leggeri come l'aria, al punto che ora state fluttuando, pur avendo il totale controllo. Mentre fluttuate verso l'alto, attraverso l'arcobaleno, vi si presenta lo spettacolo del più bell'albero che abbiate mai visto. Mentre planate senza sforzo sulla cima di quest'albero, vi rendete conto che quell'albero è la vostra anima, che quell'albero siete voi. Istintivamente capite che i quattro rami principali dell'albero rappresentano la parte fisica, emotiva, mentale e spirituale di voi. Sentitevi liberi di fluttuare tra i rami e di osservare ciò che avvertite essere malsano o che non ha un aspetto sano. Chiedetegli cosa c'è che non va. L'albero vi risponderà. Abbracciate il ramo dell'albero che chiede aiuto e infondetegli amore. Osservate le foglie secche volare via al vento e la comparsa delle foglie nuove e verdi appena germogliate. L'albero vi invita a sedervi tra i rami. Mentre lo fate vi sentite integri e completi. Grazie al vostro amore l'albero risplende di salute e sulla sua volta verde sbocciano dei fiori. La gratitudine che sentite giungere dall'albero vi riempie il cuore di felicità e voi gli comunicate che sarete sempre disponibili a guarire, che sarete sempre insieme. seduti su un ramo, pensate a quanto la cascata vi abbia fatto sentire puri e leggeri. se le alzate riuscite perfino a vedere attraverso le vostre mani. chiudete gli occhi, fate alcuni profondi respiri inalando la deliziosa fragranza verde dell'albero e accarezzate le foglie ora così sane grazie al vostro intervento. immaginatevi nel vostro luogo di meditazione e infondete nel vostro corpo tutta la felicità e la gratitudine percepita durante il viaggio. immaginatevi nel vostro corpo. Grazie a tutti. 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 a tutti.